L'università ha il suo nuovo rettore, è il professor Edoardo Alesse. Hanno votato innanzitutto 805 dei 1135 eventi diritto, quindi un'alta partecipazione. E così Edoardo Alesse si è imposto già in prima votazione e succede alla rettrice, Paola Inverardi, alla guida dell'Università degli Studi dell'Aquila. Per i prossimi sei anni il professor Alesse sarà il nuovo rettore. 61 anni, è docente del DISCAB, il Dipartimento di Scienze Cliniche Applicate e Biotecnologiche, ordinario di patologia generale, già direttore di due diversi dipartimenti, senatore accademico e consigliere d'amministrazione uscente. Ha sconfitto Carlo Masciocchi, di 63 anni, professore dello stesso Dipartimento, ordinario di radiologia e primario del reparto diagnostica per immagini dell'ospedale San Salvatore, prorettore vicario uscente. Alesse ha ottenuto il 50% più uno dei voti che erano necessari per l'elezione in caso di superamento del quorum. È una grande soddisfazione, ha detto. Queste sono le sue prime parole. Cercherò di saper corrispondere a tanto consenso con tutte le mie forze, con tutta la mia dedizione all'istituzione. Sono arrivate anche le congratulazioni del sindaco Pierluigi Biondi e esprimo al professor Alesse sincere congratulazioni per l'affermazione elettorale e i migliori auguri di buon lavoro per il prestigioso incarico. A lui è affidato l'importante compito di mantenere e migliorare gli standard qualitativi dell'offerta formativa di un'istituzione che è centrale nella strategia di rilancio di un intero territorio. Sono certo che il dialogo e il reciproco supporto tra comune e università proseguirà anche con la rinnovata governance.